Siamo al Festival, al Capalbio Film Festival e arriva anche il tema della sostenibilità che non poteva mancare. Cosa può fare il cinema per la sostenibilità e la salute del pianeta? Il cinema può fare moltissimo perché quando si parla di transizione ecologica quello che si deve fare lo si sa, la scienza ci ha detto quali sono le strade per migliorare il nostro impatto sul pianeta e quindi per dare alla specie umana la possibilità di sopravvivere nonostante tutto quello che sta succedendo. Ma per poter applicare questi nuovi modi di vivere a volte stili di consumo, tecnologie, occorre dei cambiamenti nei comportamenti. Le persone devono capire che è il momento di vivere e consumare e produrre in maniera diversa e cambiare non è facile. Tutti persone, aziende, istituzioni parlano di cambiamento ma in generale tendono a essere conservativi. Noi tutti che vorremmo comportarci in maniera diversa generalmente continuiamo a fare esattamente le cose che abbiamo fatto in passato. Ecco allora che per modificare realmente il modo in cui noi concepiamo la nostra vita a volte serve l'arte, serve il cinema, servono tutte quelle modalità che non intervengono sugli aspetti razionali, perché razionalmente già sappiamo che dovremmo farlo, ma sugli aspetti emotivi. Quindi un film, come anche una canzone, una musica, possono cambiare il nostro modo di percepire la realtà e ci possono indurre a fare quello che magari non avremmo fatto. Questo vale ancora di più sui bambini naturalmente. Il film che oggi abbiamo presentato, un film di animazione, racconta i problemi che ci sono e potrebbe, ci auguriamo, indurre le più giovani tra le nostre generazioni a cambiare rispetto alle generazioni precedenti. Bambini, adulti, in realtà chiunque può cambiare idea se è davanti a un'opera d'arte, è davanti a qualcosa che lo può indurre emotivamente a modificare il suo atteggiamento. Il 75% delle aziende fa in realtà operazioni di greenwashing. Questo credo che sia una delle cose più dannose che in questo momento possano avvenire. Come si può contrastare questo fenomeno? Si può controllare la comunicazione delle aziende? Il greenwashing è stato un fenomeno, e ancora naturalmente è stato un fenomeno, però io definirei transitorio. All'inizio anche le aziende non avevano ben idea di cosa realmente si poteva fare, si doveva fare, e quindi hanno iniziato comunicando e cercando di dare un loro contributo in maniera probabilmente non corretta, perché anche illudendo forse i consumatori di cose che in realtà non stavano succedendo. Oggi il greenwashing è molto molto più difficile e in realtà si sta un po' abbandonando, perché la normativa è stringente e soprattutto un'azienda che viene accusata e incolpata di greenwashing paga multe e sanzioni molto molto salate. Anzi, paradossalmente si sta verificando un altro fenomeno che pure non è corretto, quello del greenwashing, cioè nascondere e non parlare pur di non dire cose che non siano perfettamente corrette da un punto di vista scientifico. La soluzione vera è che bisogna fare, e questo le aziende lo sanno, bisogna fare in maniera concreta, misurare, avere dati scientifici e poi comunicarli. Comunicare senza una base scientifica non solo è sbagliato, non solo moralmente non è corretto, ma è molto rischioso da un punto di vista normativo. Quindi da questo punto di vista direi che la situazione migliorerà e sta migliorando anche abbastanza rapidamente, soprattutto per le normative europee che stanno diventando molto molto stringenti su tutto ciò che è la rendicontazione delle azioni fatte dalle aziende. Quindi noi consumatori ora ci possiamo fidare di ciò che leggiamo sulle etichette, ciò che sentiamo nella pubblicità? Molto più di prima, ancora probabilmente ci saranno dei fenomeni, ma oggi prima di dire qualcosa, soprattutto di scriverla sull'etichetta, vi assicuro che le aziende ci pensano molto, perché ripeto, il rischio legale è molto alto, quindi diciamo c'è più trasparenza, ci è sicuramente più trasparente e ci sarà più trasparenza. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.